signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e con questo video arriviamo a chiudere l'epopea dello scrivere una quest questo non sarà l'ultimo video nella serie all'inizio del mese prossimo ne ho in programma un altro con quelle che saranno le considerazioni finali ma per quanto riguarda il lavoro di creazione della quest e preparazione del materiale abbiamo finito non c'è più nessun aspetto creativo da discutere però bisogna ancora parlare degli aspetti tecnici e pratici che comporta la presentazione di una quest al tavolo prima di cominciare però voglio ringraziare per l'ultima volta tutti quelli che hanno inviato le loro proposte e hanno votato le proposte degli altri senza di voi non ci sarebbe potuta essere questa serie quindi vi ringrazio sia a nome mio perché mi sono divertito a lavorare su un progetto così collettivo sia a nome di tutti quelli che questa serie l'hanno solo seguita o magari la vedranno in futuro senza di voi nulla di tutto questo sarebbe stato possibile quindi grazie basta però con i convenevoli perché adesso è arrivato il momento di portare la quest al tavolo e preparare tutto quello che ci serve quindi è arrivato il momento di fare una scaletta normalmente all'inizio di ognuno di questi video io ho sempre fatto una sintesi di tutte le idee che sono arrivate e poi me l'ho presentata come riassunto questa volta però non mi è possibile farlo perché per l'ultimo video è arrivata una mole di materiale talmente enorme quasi tutto a cura di gianluca vecchi che è uno di quelli che ha seguito la serie dall'inizio e che lo ringrazio però ha scritto talmente tanta roba che anche a riassumerla staremmo qui per troppo tempo ho preferito nel video quello uscito durante la settimana fare un highlight dei concetti più importanti che ho presentato con una specie di cortissimo in universe come normalmente si dice per quelli che se lo sono perso vi linko il video qua sopra fate molto prima a vedervelo direttamente di quello che ci metterei io a spiegarvelo diciamo comunque che per rispettare quello che è stato detto inizialmente cioè di avere una ambientazione urbana piena di conflitti la città di accenturia così d'ora in poi verrà chiamata è diventata una città molto sviluppata soprattutto tecnologicamente ma dalla doppia faccia se da una parte apparentemente progredita inclusiva e tollerante dall'altra parte è lacerata da conflitti sociali e lotte politiche che buttano un'ombra su tutto questo che è un'ambientazione molto noir che è perfettamente in linea con quello che ci serviva per la nostra quest investigativa ok adesso abbiamo tutto quello che ci servirà per mettere in scena la quest al tavolo abbiamo una serie di scene importanti che formeranno lo story abbiamo una serie di collegamenti logici tra queste scene che andranno a formare il plot provvisorio e abbiamo anche una quantità di elementi di contorno che daranno profondità alla storia che sarà il nostro lore di che cosa siano questi elementi e perché siano importanti per la nostra quest ne abbiamo già parlato per chi se non fosse perso lancio anche questo link al video qua sopra diciamo comunque che come vi ho detto la parte creativa possiamo considerarla conclusa fino a quando inizierà la quest vera e propria e lì bisognerà cominciare con la narrazione interattiva però adesso per riordinare le idee e avere tutto il materiale a disposizione bisognerà organizzarlo in maniera schematica quella che è normalmente chiamato la scaletta o il processo di scalazione diciamo che io preferisco chiamarlo semplicemente la scaletta della quest quando si parla di schematizzazione non si può usare un metodo universale ogni persona ragione in un modo diverso quindi un impianto schematico che abbia un senso per un master potrebbe essere del tutto incomprensibile o troppo complicato per un altro in questo video vedrò di spiegarvi il metodo che uso io prendetelo come un esempio non necessariamente va bene per voi ma potrebbe essere una base per sviluppare il vostro cominciamo creando una vera e propria schematizzazione degli eventi prendete un semplice foglio di carta vedete già le immagini che scorrono dietro e nella parte finale tracciate quello che è lo schema effettivo degli atti della quest disegnatelo sul fondo del foglio tra un attimo vi spiego il perché su questo schema poi andate a inserire tutti quelli che sono i passaggi fondamentali della quest quelli di cui abbiamo discusso nello scorso video fondamentalmente potete magari anche segnarvi i possibili punti di svolta del railroad e ovviamente lasciare dei buchi che verranno poi riempiti alla narrazione emergente della quest questo non è un riassunto di tutto quello che dovrà succedere nella quest ma solo un elenco che vi servirà per ricordarvi a quale punto siete arrivati e a quale punto deve essere la scena successiva verso cui dovete orientare la narrazione avendo lo disegnato sul fondo quando raddrizzerete il foglio avrete tutta un'area libera su cui scrivere i vari appunti che dovrete prendere durante la quest che procederà in parallelo ai vari punti del railroad previsto in questo modo potete inserire tutte le note che vi servono e volendo anche riprogettare il railroad man mano che la quest procede quella di girare il foglio potrebbe essere una cosa ovvia io personalmente ci ho messo anni a realizzarlo una volta terminato di preparare la scaletta è sempre meglio prepararsi anche un riassunto schematico di quelli che saranno i principali png con tutte le informazioni relative rilevanti a secondo ovviamente del ruolo che occuperanno all'interno della storia la nostra scaletta prevede due principali combattimenti quello con la moglie e quello finale con i capi della loggia dei meccanobaroni possibilmente anche un terzo quello con le guardie tutti i png che prenderanno parte a questi combattimenti dovrebbero avere il loro blocco di statistiche riportato ora a seconda di quale sia il sistema che state utilizzando questo blocco di statistiche sarà più o meno complesso se utilizzate un sistema particolarmente duro sulla meccanica come può essere un d20 system ognuno di loro avrà una scheda del personaggio con tutti i valori riportati un sistema più narrativo più leggero potrebbe riportare soltanto le mosse principali o anche solo poche righe che descrivano semplicemente quali sono le opzioni di combattimento ovviamente qui dovete prendere in considerazione anche qual è il vostro stile e lo stile del vostro tavolo se i vostri giocatori cercano di picchiare qualsiasi cosa si muova per ogni png è meglio che riportiate anche tutte le varie opzioni utili in combattimento se al contrario sono particolarmente entusiasti del cercare di sviscerare i risvolti psicologici di ogni personaggio è meglio che vi scriviate tutti i tratti caratteriali salienti e magari anche qualche segreto o bizzarria del carattere che magari non è rilevante per la quest quindi non è stata ancora decisa ma che potrebbe tornare utile quando interagirà con i png sarebbe anche il caso che vi prepariate qualche profilo generico per degli incontri non direttamente legati alla trama ma che potrebbero avvenire durante la quest i personaggi potrebbero venire attaccati da dei malviventi mentre attraversano un vicolo oppure potreste aver bisogno del profilo generico di un meccano barone nel caso i giocatori a un certo punto decidano di interrogare un sospetto con le maniere forti i personaggi quando dovranno scappare nelle fogne potrebbero incontrare gli alligatori o i topi giganti o potrebbe esserci per qualche motivo qualche mostro qualche altro pericolo che è possibile incontrare nelle strade della città tutti questi vi serviranno per ottimizzare i tempi della sessione nel caso abbiate sforato o per aggiungere un po di combattimento nel caso vediate che il tavolo stia perdendo attenzione o perdendo tono e ovviamente per aver qualcosa da inserire immediatamente in gioco nel caso in cui i giocatori abbiano fatto qualcosa di realmente inaspettato e voi dovete guadagnare tempo per arrivare alla fine della sessione per poter rivedere i vostri appunti finita tutta la parte di schematizzazione potreste voler utilizzare il tempo che vi resta per preparare dei prop da mostrare o da distribuire in seguito ai giocatori per esempio si potrebbe disegnare una mappa della città di accenturia per far vedere la posizione relativa di tutti gli edifici magari da lasciare sul tavolo come indicazione per i giocatori in realtà per come abbiamo previsto la quest non serve ci sono luoghi importanti ma gli spostamenti da un luogo all'altro sono del tutto narrativi però questo comunque serve ad aumentare l'immersione del gruppo e volendo potreste anche fare un passo avanti magari dividere i vari quartieri e progettare una tabella di incontri casuali di cose che potrebbero incontrare da un quartiere all'altro non sono cose che sono importanti per la quest per come l'abbiamo scritta ma inserire elementi sandbox del genere potrebbe essere utile per aumentare la varietà venire incontro all'interesse del tavolo o anche solo per espandere la narrazione ulteriormente durante la quest ovviamente questo è anche il momento in cui dovete pensare allo specifico agli ambienti di gioco magari cominciare a scrivervi delle minime descrizioni dei vari edifici e recuperare delle foto da far vedere i giocatori disegnare le mappe vere e proprie sia per quei gruppi che giocano in rete via roll 20 ma anche per i gruppi che giocano dal vivo disegnare una mappa prima potrebbe tornare utile se poi avete il tempo e le capacità nulla vi vieta di strafare lo abbiamo già detto in un vecchio video potreste costruire il medaglione in cui risiede il fantasma di Giannino Diritto e consegnarlo ai giocatori magari non un gioiello vero e proprio ma anche solo un token che il giocatore che in quel momento ha il medaglione può mettersi vicino alla scheda per ricordarselo oppure potreste come ho fatto io per lo scorso video realizzare una serie di filmati magari i vostri giocatori a un certo punto passeranno davanti a uno schermo in cui potranno vedere il messaggio pirata dei puri che viene proiettato per annunciare l'inizio della rivolta cittadina diciamo che per questo video è tutto questa volta non vi chiederò di mandarvi le vostre proposte perché ormai il lavoro creativo è finito però mi piacerebbe sapere come fate voi a schematizzare la quest e cosa vi preparate prima di portarla al tavolo questo è quel genere di consigli che tornano utili soprattutto ai master neofiti che magari hanno pochissima esperienza sulla conduzione del gioco reale come ho detto prima la serie non termina qui il prossimo mese ci sarà l'ultimo episodio in cui andremo a vedere un altro degli aspetti fondamentali del masteraggio vero e proprio cioè cosa succede quando la quest è finita bisogna fare il debriefing e le considerazioni finali che è un aspetto molto spesso ignorato settimana prossima invece inizierà un'altra serie di video legati tra di loro questa volta andremo a parlare del metagaming che è uno degli aspetti che mi hanno chiesto di più in assoluto e adesso ho avuto più tempo per mettermi bene a scrivere la serie come sempre se avete domande, dubbi o perplessità scrivetemi nell'area di commento qua sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il Master Kai e noi ci vediamo nel prossimo video